Stiamo andando ad arricchire il dossier del prefetto ma soprattutto del procuratore capo Vignatone. Dentro infatti ci sono moltissimi atti nei quali probabilmente i magistrati non sono a conoscenza. Quindi operazione togliere il marcio, quello che ancora non è emerso. Mafia Capitale significa zero servizi per i cittadini, non è vero che i soldi non ci sono, i soldi ci sono, vanno tutti qui. Ricordatevelo, ricordatevelo quando sarete in cabina elettorale.